Ciao a tutti ragazzi da Messi91 e ben ritornati sul canale di YouTube Italia Forum. Siamo ancora qui su Beyond Two Souls per la terza parte con l'episodio o meno col capitolo Benvenuti nella CIA. Mentre aspettiamo questo caricamento infinito come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale di YouTube Italia e di passare anche sul mio MessiZone che troverete in descrizione. E come vedete il caricamento ancora non è finito. Potrei raccontarvi la divina commedia all'incontrario dritta di in diagonale lettera per lettera che ancora saremo qui ad aspettare. Quindi ragazzi forbici in mano da un taglione ci si becca a fine caricamento. Ah quello è il tizio, il tizio degli arabi. Nella seconda missione c'erano gli arabi, c'era pure lui. Quindi era una missione della CIA, ok. La tua stanza. Sarà tua per i prossimi tre anni. Tre anni? Minchia. Il testamento comincia alle 5, sei puntuale. Ahah. Eh ma sorridi cazzo. Non ridi mai tu. Ok, corsetta è in mezzo alla prima mattina, in mezzo agli alberelli, va che bellino. Forza Olms, stacci dentro! Ma Olms sarei... Ah sì, Olms sono io. Già di Olms. Oddio, vado stortissimo. Sì lo so, sembro ubriaca sempre ma non è vero. Giura è acqua. Ok, perché quello passa da parte anch'io? No, voglio passare da parte. Perché si sta... Ma perché devo farlo solo io? Spiegatemi. Quello è sceso, l'altro è passato da parte. Devi darti lo slancio per procedere. Eh aspetta un attimo cazzo, nulla. Così, Olms, avanti! Non ho tutto il giorno! Eh no, nemmeno io, tranquillo. Sì, ora me lo fai fare. Grazie. Ah, mi devo guardare tutto il tutorial, sennò non me lo fa fare. Sì, sì. Va, vai, ho capito. Cioè, non sono così ritardata. Ci arrivo, eh, cioè. Posso menarlo per bene adesso? No, peccato. Dove va? No, al mio pubblico. Ahia. Al riparo. Miri. Spari. E ancora al riparo. Chiaro? Chiaro. Maddo, con quale lentezza infinita hai sparato, mamma mia. Wow, pure la scivolata. Cari, 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 cari. Sì, percato che ha sparato tipo otto quarti d'anno dopo, ma fa nulla. Al riparo! Devi metterci dietro! No, al riparo! Wow! Brava. Grazie. NK. 1 fratto K. No, se è matematica, ragazza mia, te la devi cavare da sola. Io so proprio... Abbastanza negata. Cioè, tipo, per me è arabo. Magari è una formula che esiste nella... Eccelente. Grazie. La prima volta che un professore legge il mio compito di matematica dice eccellente, va bene così. Ottimo. Hm, non mi ricordavo più i tasti di Aydan. Shbem. Ma no! Ma come fanno a star su? Ah, ok, no, perché... Ma tipo, li devo buttare giù tutti. Ah, ok. Bene. Grazie. Avanti così. Ok. Grazie, grazie. Vai, pestiamo il tizio pelato. Io non ce l'ho con i pelati, giuro. Però ti pesto lo stesso. No, no, no. No, 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 no. Cioè, gli sto facendo le chiappe a strisce, sono la figlia di Bruce Lee, cos'è? Eh? Eh, e mo' come la metti? No, non ti distrarre. Sì, già l'abbiamo fatto, questo. Dio in fretta, e tieni giù quel culo grasso! Ma il culo grasso sarà il tuo! Brutto schifo, sei pelato tu! Il culo grasso, mi ha detto, ma come si è permesso? Ok, qua che faccio? Sfondo la parete? Ah, no, ok. Muoversi, recluta! Questa non è una cazzo di scampagnata! No, anche perché piove, non l'avrei fatta. Issa! Dai che ce la fai, dai che ce la fai! Ho appena attaccato il cavo del joystick perché ho le batterie scariche, quindi se sentite un botto è perché scuotendo mi sono tirata dietro mezza casa, non fateci caso. E poi fai una capriola su un piede e salta... Eh, infatti, non avevo dubbi. Questo che è? Ah, posso pure curarla! Cioè, tipo, sono più o meno Dio, faccio tutto io. Issa! Issa! Eh, la madonna, ne fatte tre, non ne fatte trecento! Che cosa nascondi? Cosa stai nascondendo tu lì dietro? No! Ma è sgravissima sta cosa, oddio! Oh! Oh! Eh, ma gra... Vedi che è sgrava... È sgrava sta cosa! Ok, ok, ok. Ah, ce l'ho, ce l'ho! Brutto schifo! Oh, ahia! Ok! Muori, muori, muori! Non male! No, vabbè, sono una ragazzina di un metro e sessanta per quarantacinque chili, ho ammazzato un bestione uber pompato pelato e un ninja, e questo mi dice non male! Grazie per la soddisfazione, grazie, grazie. Non male, grazie. Vedo tutto nero... Ah, ok. Mmm! Salve! Quanta gente, sono qua tutti per me! Ma che gentili! Non ce n'era bisogno! Ok, allora... Cori, 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 cori! Musa Aidan per distrarre soldati, come faccio? Ah, ok. No, che cosa fa? Girati, ce l'hai lì! Dove cazzo ti giri, Aidan? Mi spieghi cosa stai facendo, Aidan? Molto ovviamente... Ah, no, pensavo mi avesse già scoperto. È stato mezz'ora a girarsi intorno, sto qua. Vai, vai, vai! Ma che ninja! Quando Aidan collabora siamo dei ninja, mamma mia! Aia! Poverino! Dai, fammi vedere che c'è. Ok, quel tizio... Quell'altro tizio... Ce n'è uno pure là in fondo. Questo tizio lo impieghiamo. Guarda dentro ai barili, magari c'è un procione morto. Guarda, guarda. Staccati dal muro. Oh! What's up? Muori! Ok, ok, ok. Corri, corri, corri. Sali, sali, sali. Aspetta che c'è il tizio. Ecco, lo andiamo a soffocare. No! Viglia il tizio, mamma mia, Aidan, non ti stai ubriando. Vai, 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 vai. Ma quello è il mio istruttore, stavo già per avere un infarto. Oh! Buttati, buttati. Perfetto. Tana, no, Aia. Ma se non fosse stata una prova, saresti già morta. Se non fosse stata una prova, non avresti nemmeno potuto aprire quella bocca, Ryan. I miei complimenti, Ones. Ce l'hai fatta. Benvenuta alla CIA. Grazie, signore. Sì, Giody. Benvenuta tra noi. Ehi, ce l'hai fatta! Val lavoro, Giody! Sì, ma non spingetemi così, che sono piccino a volo via se mi hai dato un pontone. Ok, approfitto del caricamento per inserire un commento. Volevo spiegarvi che in questa scena abbiamo visto Giody essere salvata da un soldato a caso. Questo soldato è controllato da Aidan. Se fate caso, gli occhi sono bianchi. Scopriremo più avanti nel gameplay, proprio in questo capitolo successivo, che Aidan avrà anche questa abilità. Vi dico questo perché io, passando la prima volta, non avevo capito perché questo tizio puntasse la pistola all'altro tizio. Ok, lei viaggia dentro al treno e noi ci prendiamo tutta l'acqua in faccia. Perfetto, andiamo dentro. Adesso era tutto rosso, per forza ha preso il raffreddore, poverino. Allora, rompiamo un po' le palle a giochi. Mi annoio, come sempre. Devi piantarla, Aidan. Ma io mi annoio. Insomma, sono praticamente tre giorni che non torno. Ok, sono stanca. Va bene, scusa. Vado a rompere le palle a qualcun altro. Tipo sto signore qui. Signore... Signore, mi ascolti. Ho detto, mi deve ascoltare, cacchio. Ma quanto stai brutto. C'è freddo. Eh, aspetta, prendi un giubbotto da qua. E dorme, allora vaffanculo. Lei, lei, cosa gli possiamo fare a lei? Vai, la borsi in testa. Ma deve cadere in testa però. Ottimo. Questo che fa? Bello. Fuori dal finestrino, vai. Ma no dall'altra parte. Salve, signora. Il treno è posseduto dai fantasmi, ma non ci facciate evocare. Vai sui pantaloni! No! Ma dai! Ma non sai fare neanche gli scherzi, Aidan. Mi sa che ho finito... ...l'intrattenimento. Peccato. Dove sono finita? Ah, ok. Oh, il cagnolino. Oh, il cagnolino. Ah, non ci posso andare, fantastico. Già di sentire, lo so che non vuoi che ti rompa le palle, ma c'è un po' di polizia in giro. Svegliate! Prima di incazzarti, guarda fuori. Ecco, sì, ho pensato a quello pure io. Ma no, andate dall'altra parte, cazzo. Controlli di routine. Ottimo, giratevi entrambi, giratevi. Fantastico, via via via. Ma erano girati di schiena. Ma erano girati di schiena. Ovviamente, ho sul cappuccio, sono di schiena, ma loro mi conoscono uguali, mi sembra ovvio. Via via. Scappa, scappa. Sì, dobbiamo farli proprio tutti... Ma va così, così di merda sto... Sto treno dondola così tanto, mamma mia. Apri! Oh, l'ho saltato. Via via, aia. Il mio giubbo, il mio giubbo, no, il mio giubbo. Vado, sembro un ubriacone, mamma mia. Signore, si sposti. Sì, abbastanza. Via via. Ok, no, buttarmi dalla finestra con un treno in corsa non penso sia un'ottima idea. Quindi andiamo avanti, va, magari si esce di là. What's that? Faccola. Eh, signore, mi sa che non avrà più figli, ma capo. Via via. Aia. Chiudi, chiudi. Occupato. Dai, rompiti. Aiuto, mi hai. Un attimo, con calma. Ottimo. Un'idea perfetta è andare su un treno ai 2000 all'ora. Ottimo. Speriamo che non ci siano di gallerie, sennò mi sa che ce l'abbiamo un po' in quel posto. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. No, din, 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 din. Che roba, din, din. Niente gallerie. Vai, è scivolato, è scivolato. Andiamo, andiamo, andiamo. Ottimo, ottimo, via, via, viaggiati, sono, vai, vai. No, cazzo, sono. Aia. Porca vacca, ho sbagliato. Scappa, scappa. Alzate. Eh, quello mi sa che ho perso tempo con il tizio prima, quindi è salito, cazzo. Ah, no. Wow, fantastico. Mmm. Ah, no. Ah, no. Wow. Che figo. Wow. Madonna, che figata. Sì, non ce l'avete fatta in tre, se la vuoi fare da solo. Ma l'ho colpito. Eh, infatti, l'ho colpito. Ma ho preso a un par di ciuffoli. Ah, no, siete in 200, se io che hai presa, mi arrendo che hai preso. Ma che voglio fare? Cosa fai? Ti butti. No, ma che fa? Non capisco. Mi sparano. Fantastico. Ancora voglio le tuba zucca. Non lo so, intanto che ci siete. Che sta succedendo? Oh, e dopo una scena del genere, io fossi nei poliziotti, prenderei su le mie quattro cavolate e me ne andrei. Perché una così non la catturo più. Non la catturo più una con tutti questi poteri. È Dio, tipo. Bello, c'ho pure uno squarcione su una spalla. Ma dai, era la mia maglietta preferita, più bella di tutte. Guarda che stronzi. Sì, lo so. Dobbiamo andarcene prima che tornino. Ma la mia maglietta. Mi sa che sono già tornato. Andate dall'altra parte! Cazzo. Cuoto. Wow. Sì, sì, ma io non vedo un cazzo fantastico. Io non vedo nulla. Cioè, vabbè. Devo andare abbastanza, abbastanza a casa. Tipo, questo penso sia basso. Di qua, di qua, di qua. Sì, già avevo visto il tronco, quindi era ovvio che c'era da saltare. Qua c'è da abbassarsi. Vai, vai. Ancora, ancora. Giù, giù, giù. Che, che... Ok, di nuovo. Ahia. Non lo vedo. Ok. No, ma non è il fognume. No, ma non è il fognume. Aia. Oh, che ti spari. Aia. Oh. Ma che spara? Ma no. Certo che ha una miracolo che è fantastica. Ma, Giorgi, corri, corri. Coppi, coppi. Scappa, coppi, fuggi. Ahia, che ha saltato, ha saltato. Ah, non salta da sola, ottimo. Sì, ma... C'è un GPS da qualche parte, una freccia, segnali di fumo. Cioè, dove devo andare? No, no, non l'hai vista. No, tranquillo, non ero io. Ti sbagli. Là, 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 c'è della roba luccicosa. Perfetto. La roba luccicosa si arriva a un cazzo. Ah, io ho, per esempio, una pianta. Sì, va bu- Eh, va bene, ma dove devo andare? Non lo so. Sì, aiuto. Quindi, adesso vi metto a menare Rex. Fantastico. Due Rex. Ottimo. Spero tu abbia fatto l'antirabica, ragazza, perché qui la vedo brutta. Ma cosa? Aia, aia. Ma vaffanculo. Dai, ma li ho colpiti, ecco. Picchialo bene, come se per un altro è stato toccato di me, dai. What's that? Oh. Aidan, mi servirebbe un aiutino, cazzo. Ma è inutile Aidan in sto momento. Dai, la pietra. No, faculo. Eh, mi dispiace, cagnolino, ma se mi mordi... Pussa via. Mi sono rimesso solo un braccio, dai, non è nulla. Vedi che dovevo andare verso la roba luccicosa, ma allora siete schifi, proprio. Ancora niente! Ragazzi, vi lascio con un po' di suspense questa volta e fermo l'episodio qui. Mentre già di scala la montagna, vi chiedo di lasciare un commento e mettere i bei pollicini sotto al video. Iscrivetevi al canale di YouTube Italia e fate un salto anche al mio, MessiZone, che troverete in descrizione del video. Un saluto a tutti, ragazzi. Buona giornata. Buona giornata.